Nei precedenti video abbiamo definito che cos'è la dislessia e come si manifesta, ma come avviene il trattamento di un disturbo specifico di apprendimento dell'abilità di lettura? Dalle evidenze scientifiche sappiamo che il trattamento più efficace nei bambini con una dislessia è quello mirato al recupero della correttezza e al miglioramento dell'automatizzazione del riconoscimento delle parole. Che cosa vuol dire? Per il recupero della correttezza facciamo riferimento a una riduzione della quantità di errori commessi nella lettura, invece per il miglioramento dell'automatizzazione del riconoscimento delle parole facciamo riferimento a migliorare, a rendere più automatica la fluenza e la rapidità di lettura.